E' ancora un lavoro specifico prima di arrivare ovviamente allo staccio. Tutte le proiezioni lockout, la stabilizzazione, l'ascolto, mantenere la posizione e poi partire a una seconda ripetizione sono fondamentali dal punto di vista didattico e anche competitivo perché se non ho questo lockout, la ripetizione non viene più validata. Quindi ci deve essere un momento di stazionamento, ok? Le catene crociate statiche, cioè le crociate dirette, non lavorano mai una attiva e una inattiva. E' tutto sempre una sincronia. Quando ogni snatch utilizziamo, non si parliamo su un lockout, utilizziamo le statiche, però le utilizziamo anche durante il movimento per stabilizzare l'addogno, per stabilizzare il cuore. Aumentiamo la pressione addominale e stabilizziamo con le catene rette la nostra postura, ok? E permettiamo ai visci di essere accolti meglio nel bacino perché aumentando la pressione i visci verrebbero schiacciati contro il pavimento bellico. Invece avendo una postura statica, le catene rette statiche molto buone, molto attive, abbiamo un'appoglienza maggiore per i visci senza sovraccaricare.